al mio 3 farò una imitazione breve ma auspico efficace di rosario monis questo personaggio anfibio come lo stesso andrea di prello ha etichettato nel presentarlo agli altri presente qua su youtube ormai da molti anni l'uomo con i peli l'uomo peloso così lo vado a definire ok ma bando alle ciance buon divertimento 123 ciao sono rosario monis e ho la fica nel culo o la fica nel culo e cerco l'uomo l'uomo giusto sono un ragazzo con con sani principi e soprattutto mi piace fare tutto e non ho non è peli sulla lingua e quei peli che ho sulla lingua non sono i miei e mi piacciono gli uomini mi piace fare sesso mi piace l'uomo e comunque ho la fica nel culo ho la fica nel culo bene spero di avervi fatto divertire cari utenti di youtube questa simpatica briosa e divertente imitazione è breve ma auspico efficace termina qua iscrivetevi se vi va chiaramente commentate fornitemi un vostro giudizio sintetico ma efficace della mia imitazione di rosario monis l'uomo peloso ciao da leandro conoscitore italiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti